All'interno del gruppo dei complementi diretti, cioè dei complementi che non hanno bisogno di preposizioni per essere collegati al predicato, non c'è soltanto il complemento oggetto, ci sono anche i complementi predicativi. Quindi anche in questa terza lezione di ripasso si parla di verbi. Avrai capito che il verbo è la parte fondamentale del discorso perché da qualsiasi punto di vista tu vorrai analizzare una frase, dovrai sempre e comunque partire dal verbo. Pino legge è una frase molto semplice. Ho il mio soggetto che è Pino che sta compiendo l'azione di leggere, predicato verbale. Questo è un verbo che non ha bisogno di altro perché il suo significato sia chiaro. Certo, è una frase che ci dà poche informazioni, non sappiamo Pino che cosa sta leggendo, non sappiamo perché legge, non sappiamo dov'è mentre legge, però l'azione che sta compiendo Pino è chiara e inequivocabile. Questo verbo dunque non ha bisogno di altro, non è necessario aggiungere altro perché l'azione sia comprensibile, perché il suo significato sia chiaro. Ma se io scrivessi Pino è diventato, se qualcuno ci dicesse una frase del genere o noi leggessimo una frase del genere, immediatamente ci verrebbe spontaneo dire vabbè è diventato cosa. Quindi difficile per noi, secondo logica, poter mettere un punto fermo dopo questa frase perché sarebbe una frase che non significa nulla. Pino è diventato, ho capito, ma è diventato che cosa? È importante per capire il significato della frase. Cosa significa questo? Significa che questo predicato è diventato evidentemente ha bisogno di qualcosa in più, altrimenti il suo significato non è un significato compiuto, non è un significato chiaro e inequivocabile. Infatti a una frase così a noi verrebbe più spontaneo mettere una sfilza di pontini per dire Pino è diventato e manca un pezzo. Bene, io qui potrei aggiungere è diventato capitano. Anche qui noi non abbiamo grandi informazioni in più, non sappiamo quando, non sappiamo dove, soprattutto non sappiamo capitano di cosa, di una squadra di calcio, di un reggimento. Però, però il significato del verbo adesso è chiaro. Pino è diventato capitano. Allora, qual è la differenza tra questi due verbi, legge ed è diventato? Allora, la differenza è che legge, il verbo leggere, è un verbo che non ha bisogno di altro. È diventato è un verbo che ha bisogno di una parola che possa chiarirne il significato. I verbi come il verbo diventare si chiamano verbi copulativi. Se ti ricordi quello che abbiamo ripassato nella lezione numero uno, questa parola copulativi ti fa venire in mente copula. E dove l'abbiamo trovata copula? L'abbiamo trovata quando abbiamo parlato del predicato nominale e abbiamo detto il predicato nominale è formato dal verbo essere più nome del predicato. E guarda caso, il verbo essere all'interno del predicato nominale si chiama copula. Infatti, l'esempio del predicato nominale potrebbe essere questo. Pino è. Se io scrivo semplicemente pino è, ho lo stesso problema di prima. Pino è che cosa? Quando il verbo essere copula può stare da solo, deve avere un nome del predicato, cioè un nome, un aggettivo, un'altra parola che ne determini il significato. E quindi io non posso scrivere semplicemente pino è. Pino è. Devo aggiungere una parola. Pino è capitano. Quando noi analizziamo questa frase, scriviamo che pino è soggetto, è capitano è un predicato nominale. È la stessa identica cosa che accade in questa frase qui. Pino è il soggetto, è diventato predicato verbale. Perché è predicato verbale? Perché non è voce del verbo essere, ma è voce del verbo diventare. Ma è un predicato verbale copulativo. Quindi la parola capitano è un elemento necessario che prende il nome di complemento predicativo. Allora vedi che tutto torna. In pratica noi abbiamo questo verbo è diventato che è come se fosse una copula e infatti si chiama copulativo. Poi abbiamo questa parola capitano che corrisponde al nome del predicato e infatti si chiama complemento predicativo. Quindi se noi abbiamo verbo essere più nome del predicato lo chiamiamo predicato nominale perché c'è il verbo essere. Se invece abbiamo un verbo copulativo più un nome del predicato dobbiamo dire che il verbo è un predicato verbale e che questa parola è un complemento predicativo. Per non sbagliare qui non basta essere attenti. Qui oimè bisogna avere anche un po' di studio a memoria. Che cosa significa? Significa che ci sono dei gruppi dei gruppi di verbi che sono proprio verbi di questo tipo. I verbi copulativi sono dei verbi come chiamare, nominare, eleggere, dichiarare, stimare, credere, ritenere, rendere, fare. Che cosa significa? Significa che un po' di questi verbi te li devi proprio ricordare perché in questo modo quando troverai una frase che contiene questo verbo ti scatterai immediatamente il campanello d'allarme e allora potrai fare tutto il tuo ragionamento perché la memoria non basta, bisogna sempre ragionare. Perché ti dico questo? Perché è facile confondere questo predicato con il complemento oggetto. Sarebbe un errore gravissimo. Perché io cosa potrei fare? Potrei fare così. Pino soggetto è diventato predicato verbale. Cosa? Mi faccio la famosa domanda. Risposta capitano e quindi complemento oggetto. Peccato che questo sia un errore grave. Allora controlliamo sempre se abbiamo un dubbio che la voce verbale sia in grado di reggersi da sola. Se qui ci fosse stato scritto Pino legge un libro, noi non avremmo avuto problemi. Pino è il nostro soggetto perché sappiamo che legge è il nostro predicato verbale, legge che cosa? Un libro. Ma se io tolgo la parola libro, la frase ha un significato? Certo, Pino legge, punto. Allora questo è veramente un complemento oggetto. Facciamo la stessa cosa con la frase Pino è diventato capitano. Diventato predicato, chi compie l'azione Pino? Pino è diventato cosa? Capitano. Ma Pino è diventato? È una frase che ha un significato? No. Allora questa parola capitano è un complemento predicativo, non è un complemento oggetto. Il complemento predicativo può essere di due tipi. Può riferirsi al soggetto e allora lo chiameremo complemento predicativo del soggetto. Oppure può riferirsi al complemento oggetto e allora lo chiameremo complemento predicativo del complemento oggetto. Vediamo un po'. Facciamo due esempi. Prendiamo in considerazione queste due frasi. Partiamo dalla prima. Giorgio è stato nominato capoclasse della terza B. Facciamo l'analisi come al solito. Prima cosa, prima cosa, individuiamo il predicato. È stato nominato. Predicato verbale, voce del verbo nominare. Chi compie, anzi in questo caso meglio, chi subisce l'azione? L'azione espressa dal verbo Giorgio. Quindi Giorgio è il nostro soggetto. Giorgio è stato nominato. Ecco qui, attenzione, mi viene spontaneo chiedermi cosa capoclasse e quindi decidere che capoclasse è un complemento oggetto. Però io ho studiato e so che il verbo nominare fa parte dei verbi copulativi. E poi in qualsiasi caso se io mettessi un punto dopo nominato non significa nulla. Giorgio è stato nominato, ho capito, è stato nominato, che roba. Allora, capoclasse sarà un complemento predicativo. A cosa si riferisce? A chi si riferisce questa parola capoclasse? Si riferisce a Giorgio, che è il soggetto. Quindi predicativo del soggetto. Perché è Giorgio che è stato nominato capoclasse e Giorgio è il soggetto. Veniamo alla seconda frase. Molti considerano Giorgio incompetente. Stesso lavoro di prima. Considerare è il nostro predicato verbale. Chi compie l'azione di considerare? Molti. Quindi soggetto. Molti considerano, attenzione, qua mi viene spontaneo chiedere chi, che cosa? Giorgio incompetente. In questo caso Giorgio è veramente il complemento oggetto. Perché? Perché Giorgio non è una parola che serve a completare il significato del verbo. Qual è la parola che serve a completare il significato del verbo? questa. Incompetente. Molti considerano incompetente Giorgio. Se io scrivessi semplicemente molti considerano Giorgio avrei lo stesso problema. Ho capito, considerano Giorgio, ma come lo considerano? Lo considerano intelligente, stupido, capace, incapace, competente, incompetente. Allora, la parola che serve a completare il significato del verbo, attenzione bene, non è Giorgio, è incompetente, che sarà quindi il mio complemento predicativo. A chi si riferisce incompetente? Si riferisce al soggetto? No, si riferisce al complemento oggetto. E quindi scriverò complemento predicativo dell'oggetto. Anche questa volta ti propongo un semplice esercizio. Stoppa il video, prendi carta e penna e trova all'interno di queste frasi i complementi predicativi. Dopo riprendi il video e facciamo la correzione insieme. Partiamo dalla prima frase. Un carattere allegro rende la vita più facile. Per poter individuare i complementi predicativi dobbiamo come assalto partire dal verbo rende. Chi compie l'azione di rendere? Un carattere allegro soggetto. Un carattere allegro rende. La frase interrotta qui non regge. Infatti rendere è un verbo copulativo. Allora andiamo a cercare dov'è il complemento predicativo. Cosa devo cercare? Devo cercare una parola che completi il significato del verbo. Io ho la vita è più facile. Quale di queste due espressioni completa il significato del verbo? Più facile. Rende più facile. Predicativo. A cosa si riferisce più facile? Si riferisce al soggetto? È il carattere che diventa più facile? No. Allora si deve riferire a un complemento oggetto. Ce l'ho io un complemento oggetto? Certo. Eccolo qua. La vita rende. Che cosa rende più facile? La vita, complemento oggetto. E più facile è riferito al complemento oggetto. Quindi questo è un complemento predicativo dell'oggetto. Passiamo alla seconda. La tua stanza mi sembra spaziosa. Attenzione! Il verbo è solo sembra. Questo è un predicato verbale ma è un verbo copulativo. Quindi cominciamo col trovare il soggetto. Chi compie l'azione di sembrare? La tua stanza. Bene. La tua stanza sembra. E adesso devo andare a cercare la parola che completa il significato del verbo. Spaziosa. sembra spaziosa. Quindi è il mio complemento predicativo. Spaziosa. A quale altro elemento della frase si riferisce? Alla stanza. È la stanza che sembra spaziosa. Quindi predicativo del soggetto. Perché la tua stanza è il soggetto della frase. Passiamo alla frase numero tre. Le mie decisioni sono inattaccabili. Parto dal verbo. Campanello d'allarme. Attenzione! Sono. Voce del verbo essere. Qui abbiamo un predicato nominale che è formato da sono e inattaccabili. Quindi questo è un predicato nominale. Chi compie l'azione di essere inattaccabile? Le mie decisioni. Soggetto. Io qui non ho un complemento predicativo. Non mi serve. Perché ho un predicato nominale. Verbo essere più nome del predicato. Predicato nominale. Frase numero quattro. La giuria ha proclamato Anna vincitrice del concorso. Ha proclamato. Predicato verbale. Verbo proclamare. Anche qui io ho studiato e so che il verbo proclamare fa parte dei verbi copulativi. Chi compie l'azione di proclamare? La giuria. È la giuria che proclama. Quindi soggetto. Benissimo. Se ha proclamato è un verbo copulativo andrò alla ricerca della parola che ne completa il significato. Quindi che cosa mi fa capire? Cos'è che ha proclamato? Che cosa? Vincitrice. Vincitrice sarà il mio complemento predicativo. Vincitrice. A quale parola si riferisce? Si riferisce alla giuria? No, non è la giuria che è vincitrice. Si riferisce a Anna. La giuria soggetto. Ha proclamato vincitrice. Chi? Anna. Complemento oggetto. Quindi questo sarà il complemento predicativo dell'oggetto. per concludere due sono le operazioni da fare. La prima è studiare cosa sono i verbi copulativi e ricordarti almeno i principali. La seconda è essere sempre molto attento al significato del verbo e verificare se il verbo, la voce verbale, è in grado di avere un significato compiuto oppure se ha necessariamente bisogno di una parola che ne completi il significato. Terzo passaggio, una volta trovata questa parola, capire se il complemento predicativo si riferisce al soggetto o al complemento che si riferisce al soggetto.